Si è tenuta nei giorni scorsi presso l'auditorium Virgili ad Amandola la discussione delle tesi e la consegna dei diplomi agli iscritti alla seconda edizione del Master in Manager dei processi innovativi per le start-up culturali e creative, diretto dal professor Francesco Casale e promosso da Unicam nell'ambito del progetto formativo Amandola Training Center, realizzato grazie alla fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Presenti all'evento il prorettore Unicam Andrea Spaterna, il presidente della fondazione Carisap Angelo Galeati, il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli e l'assessore Chiara Sciret. Gli studenti hanno esposto le loro tesi seguiti con grande interesse dalla commissione. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto delle attuali norme. Sia i docenti che tutti i partecipanti si sono detti molto soddisfatti del percorso formativo, il cui obiettivo è quello di stimolare la nascita di nuove start-up dall'unione tra giovani inoccupati con conoscenze elevate ed imprese esistenti con elevato know-how nei settori culturali e creativi del turismo, dello spettacolo e delle produzioni tipiche ed eccellenza, al fine di creare piccole e medie imprese che possano resistere sul mercato e siano orientate allo sviluppo intelligente, sostenibile e solidale. Grazie. Grazie.